Nel 2021 grande fuga dai medici, dagli ospedali pubblici. 2886 ospedalieri, il 39% in più rispetto al 2020, hanno infatti deciso di lasciare la dipendenza dal Servizio Sanitario Nazionale e proseguire la propria attività altrove. Emerge da uno studio realizzato dal Sindacato dei Medici Dirigenti, Anao Assomed. Nel 2021 la media nazionale dei medici dipendenti che hanno deciso di licenziarsi è stata del 2,9%, dato abbondantemente superato al sud da Calabria e Sicilia. La Puglia passa dal 2,04 al 3,29%. I medici non vogliono più lavorare in ospedale, cercano orari più flessibili, maggiore autonomia professionale, minore burocrazia, un sistema che valorizzi le loro competenze, un lavoro che permetta di dedicare più tempo ai pazienti e alla vita privata. Raramente la motivazione principale è la maggiore remunerazione, ma la latitanza del contratto di lavoro 2019-2021, già scaduto ma nemmeno avviato alla contrattazione per mancanza dell'atto di indirizzo e il rinvio a un futuro incerto, influiscono negativamente. Del resto, spiegano, le remunerazioni, anche a causa del blocco contrattuale ultradecennale, sono ridotte a circa il 50% rispetto a quelle che offrono i paesi dell'Ovest europeo, che entreranno in diretta competizione con l'Italia nella ricerca di personale sanitario nei prossimi anni. Il presidente dei medici, Filippo Anelli, chiede un osservatorio nazionale a Valenza consultiva presso il Ministero della Salute per monitorare il rispetto dei diritti dei lavoratori. Si sono sentiti abbandonati dalle istituzioni, dice Anelli, un giudizio unanime espresso dal 72% dei medici intervistati.